Il benessere. Nella parola benessere c'è veramente racchiuso tutto, cioè come mangiamo, intanto che cosa mangiamo, perché lo mangiamo, quando lo mangiamo e come lo mangiamo. Spesso e volentieri abusiamo del nostro fisico, è come se fossimo un contenitore di qualsiasi cosa e ci sono dei periodi in cui, almeno io faccio dei periodi di astinenza totale, alcuni lo chiamano madame, altri la quaresima, io faccio quella roba lì, un mese dove tolgo tutto ciò che... e poi sto meglio. E poi sport, anche questo, come ci muoviamo, secondo me è fondamentale muoversi. Alla fine lo sport può essere fatto a diversissimi livelli, agonistici, amatoriali oppure per star bene, perché poi quando decidi di prenderti del tempo, di regalarti del tempo, è fighissimo, è la cosa più bella che esista, mi prendo del tempo, oggi perdo tempo, cosa fai? Vado a correre, vado a nuotare, vado a fare... perché poi sto meglio. Alla fine io ho una... è un segreto mio, questo lo dico solo, è un piccolo segreto mio. Io ho una monoidea, la monoidea mia in testa è, poi sto meglio, e poi sto meglio. Quando dice, ma io vado a nuotare, non c'ho proprio... e penso, non c'ho voglia, poi però penso, e poi sto meglio, mi obbligo. E poi alla fine il risultato è, poi sto meglio. E anche mangiare così, da domani ho deciso che vado a dieta, perdo 10 chili, poi sto meglio, forse. Ciao!